Buongiorno a tutti, per la rassegna Io suono a casa eseguiremo un brano che si chiama Non ho bisogno di nulla per stare bene eseguita dal quartetto di sassofoni Gliario Sol Gliario Sol al sax baritono Gianfranco Danzi al sax tenore Donatella Podani al sax confrano Mauro De Vini al sax soprano Sebastiano Forti al saxofonino al saxofonino al saxofonino Non ho bisogno di nulla per stare bene 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 Gli areo so